ciao ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati in questo nuovo video ASMR Gaming vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un mi piace e se volete sostenere il mio canale vi lascio il link sotto in descrizione oggi continuiamo la nostra vittura su Crash Bandicoot 4 e vediamo un po' come va, siamo al terzo mondo e le cose si fanno abbastanza brutte perché i livelli diventano sempre più difficili e qui abbiamo una delle maschere più fastidiosi al mondo spero di non perdere nulla non c'è nulla una scatola guardala qua non l'avevo vista non l'avevo vista non c'è nulla? no? ok non c'è nulla? ok non c'è nulla? ok non c'è nulla? ok non c'è nulla? ok mi sicuro perdo qualcosa, me lo sento sono scema perché sono caduta eccolo la ok ok a parte la morte stupida che ho fatto prima andiamo avanti ma allora sei stronzo oh ma ti levi ok ho preso tutto madonna madonna adesso la vedo male io questa maschera non ce la faccio la faccio schifo non ce la faccio schifo a cose normali figurati con questa maschera spero le abbiano scoppiate tutte e due non ho guardato bene ok ok ma che cazzo fa è stupida ma l'hai incoglionita ma che cazzo ma come cazzo è possibile mamma io non lo so ma guarda mamma mia dai l'avevo fatta primo colpo vaffanculo perché è scesa dalla foglia ma lo so solo lei lo so solo lei lo so solo lei dove mi trovo? dai dai ho però eh che non ho voglia di rifare sempre sta cagata vaffanculo 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 che noia foglia di merda foglia di merda non so vediamo quante volte devo rifare sta roba eh questa non si chiude ok aspetta ma vaffanculo va madonna madonna devo aspettare di più devo calcolare bene il tempo ho sbagliato ho sbagliato l'ho presa male che culo non ho visto se c'era una scatola da qualche parte non mi interessa non mi interessa no 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 oddio il bonus speriamo che non è troppo difficile oddio già qua la vedo male e lì e lì non posso spaccare ho fatto male? ho sbagliato tutto vero? non dovevo fare questa cosa? non lo so e spero che come l'ho fatto adesso è giusto non lo so non lo so ma se volessi andare la non è possibile volevo andare tutta l'altra parte volevo andare tutta l'altra parte ok come faccio ad andare di la? dai che non son capace 30 anni sul bonus adesso secondo me secondo me non devo spaccarle queste per perché? per poi salirli da sopra e non devo spaccare neanche queste per ritornare indietro sono stupida sono stupida non c'è niente altro da dire ma va ma va sono dimmi di casa di saltare no secondo me non devo spaccarle quelle due per tornare indietro poi sì sì esatto proviamo così secondo me ok dai ce lo farò ce lo farò tornare indietro solo su quella madonna madonna sono una rincoglionita ma come cazzo fai? a non andare sulla scatola sarete abituati ormai ai miei errori da rimbambita stavo per morire male di nuovo stavo per morire male di nuovo eh ma come vado come vado lassù? come vado lassù? eh no non va affatto neanche così quindi non so come va affatto questo bonus non so come ma si vuole andare là sopra perché non si può non mi ti fa andare non si può, non si riesce da qua non si riesce, inutile faccio attenzione attenzione oddio stavo cadendo forse 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 e a tornare di qua che è amaro non dovevo spaccarli tu ah ma vedi bisogna ritornare sullo stesso adesso no oddio come faccio ad andare là non va fatto neanche così quindi non va fatto neanche così come va fatto non si sa oddio 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 voglio andare di là e non si riesce senza spaccare tutto senza spaccare tutto come faccio? oddio ce l'ho fatta oddio ce l'ho fatta che bello forse ce l'abbiamo fatta facciamo così non mi sarebbe andare su ho preso tutto voilà adesso qua muoio però devo andare su quando faccio il coso perchè io qua queste cose non riesco a fare oddio sono salita oddio grazie grazie oddio santo bonus di merda facile sono io che faccio schifo semplicemente non ci sono scatole vero? temi pseudo tutto sei perché ho Sì, questo è il video. ok e fino a qui ci siamo oddio qua è difficile appunto modunno che coglioni dai lo sapevo io anche adesso devo rifare la 100 volte sta roba sono sicura è scivolosa questa questa maschera di merda è scivolosa 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 ma cosa cavolo stai facendo? è scivolosa per quello che la odio sto maschera di merda una maschera di merda levati dal caos non si so stai ferma qua, ferma un attimo ferma poi io vado qua direttamente oddio ho saltato delle scatole per caso sicuramente l'ho presa in tutte oddio che bello è quella delle morti si può fare tutto dalla vita sono abbastanza contenta così ho preso tutte le scatole quella delle morti poi vabbè è facile basta che calcoli bene il tempo grazie non parolone con me comunque ok c'è un altro livello dei cosi ne ho due da fare ma non ho tanta voglia di farli il livello di sta qua non mi va proprio di farlo voglio andare avanti i livelli di quelli in più e quelli gli altri personaggi li faccio e poi c'è un altro livello e questo è quello di pigliere fa con calma un par di palle oddio me lo vedo male questo è difficile questo è molto difficile questo è molto difficile è complicato è difficilato non ci sono più scatole spero di no mi faccio prendere dal panico è proprio scema no vai vai no ma che aspetta, 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 ok con calma, con, con, con calma no, non prendo la cassettina, morendo che palle, che noia ma che cazzo sta facendo, cosa cazzo fa? si è fermata, si è fermata senza il mio permesso come mi fanno incazzare sto gioco, mi fanno incazzare, mi fanno incazzare ma vai a cagare, ma cosa cazzo fai? dio madonna, rimbampita non si sa, non si sa perché non si attacca alla corda via sta corda cribio, 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 cribio no, aspetta, 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 questa maschera di merda è scivolosa ma cosa cazzo fai? ma, ma io non lo so, dove va? va da sola, per i cazzi suoi, senza il mio permesso dai cazzo, perdo vite così a cazzo, proprio, mi fanno nervosire tantissimo guarda testi qua dove, dove va? dove va? il joystick è una merda oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio a ogni video devo sclerare come una matta per sto schifo di crash che mio dio, l'hanno fatto da cani l'hanno fatto proprio per farti cercare il cazzo non stai ferma ma vai a cagare non sto ferma no, adesso non parlo più mi azzittisco perché quanto pare più mi nervosisco e peggio è va a cagare ma vai a fangulo ma zio porco ok stupida io quasi stata scema io posso giocare e non prende la corda e ti giuro madonna 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 respira romarti respira respira e non so e non so stavo cadendo questa questa mi faccia di coglioni adesso prendo prendo crash è bitch secondo me e coco si bitch ti sono dicappata non riesco a prendere quelle scatole di merda aspetta 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 che noia oh Dio oh Dio oh Dio dammi il G dammi il G dammi il G non mi interessa se salto a scatole non me ne frega niente non me ne frega nulla 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 levati dai coglioni ci manchi solo tu guarda leone di merda via e la cassetta fa culo no no fammi prendere mele va che va senza vita cassetta di merda non puoi morire mai per prenderla cassetta di merda qua queste sono se potevate sentirlo è il campone del mio cervello che stava esplodendo guarda ma di scamo ma dove vai non si capisce dove sono le cose io spero sempre che non sto mancando neanche una scatola perché non voglio rifarli mai più ma cosa caggo no 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 ok sto manca dentro Dio Santissimo Dio Santissimo e quando muoio così che mi chiedo io cosa sto facendo della mia vita cosa ma ve lo chiedete mai mentre gioca da crash dovreste perché questo gioco ti fa sparellare il cervello madonna il bonus mamma mia mi immagino che lottura che sarà il bonus difficilissimo immagino ecco appunto ah si questo è difficilissimo con la maschera ci metterò un anno intero raga ci metterò un anno intero per farlo non sono capace ho l'intenzione di saltare il bonus ho l'intenzione di saltare il bonus sono molto tentata moltissimo addio santissimo che là sopra non si riesce ad andare non si riesce ad andare questo bonus è una merda quando lo riesce a cagare madonna santissima non dovevo sbaccarla sbaccarla non 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 io ci provo ma è difficile non volevo fare questa cosa non volevo azionare la cosa sto per abbandonare il bonus vorrei andare sulla scatola in alto in alto saltare da lì e poi andare là ma è impossibile quando faccio così non devo fare il doppio salto e vado là ok è impossibile fare sta roba dai è difficilissima andare sulla scatola è complicato dai io non sono capace a fare queste cose no raga io mi sa che non la faccio non riesco ho perso le scatole ultimamente ma no ma no ma no ma no ma no poi te la devo saltare di là ma è difficilissima sta cosa da fare vedrete la facciamo quella volando non ci arrivo secondo me non ci arrivo è fin su solo e no è troppo difficile raga non posso farla solo volando non si arriva lì con la scatola in alto io faccio il bonus senza prendere quella perché sennò non riesco oddio, oddio ma vai a cagare non riesco niente, non si riesce io con la scatola non la prendo niente, non ci riesco mamma mia che coglioni io salto proprio un bonus raga io ve lo dico no, no, non lo faccio no, no, non lo faccio madonna che non voglio e non ci perdo troppo tempo mi becco la nitro madonna allora puoi stare ferma qua togli un misto in nitro mamma mia che fastidio draghi di merda draghi draghi di merda eh non, non, non si riesce non si riesce dai, con la scatola io non la prendo non si riesce non riesco a prenderla è inutile non si riesce mi sono anche caduta mi sono anche caduta non riesco a prenderla eh madonna santa lo sapevo perché sono geste da sopra non si sa non si riesce non si riesce io non la prendo manca solo quella ma non la prendo non ci arrivo così non ci arriva non ci arriva non ci posso fare oddio oddio draghi di merda draghi di merda basta non mi interessa vado via ho perso una scatola non mi interessa non faccio neanche le scatole non le faccio sei un leone di merda ma va a cagare ma guarda che sta maschera è quella che odio di più in questo gioco mentoio ma ti levi anzi faccio le scatole solo perché devo prendere un po' di vite ma non perché devo farle ok 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 Grazie. Il leone di merda mi butta via. E cosa ci dobbiamo fare? Se c'è il leone in mezzo alle palle. Non salta abbastanza, non salta abbastanza. Non so che problemi ha questa qui, vi giuro, io non lo so, mi fa perdere vita inutilmente. Io il sto livello lo finisco, ma non lo voglio vedere mai più. Ora qua c'è anche una scatola, ma come ne sono accorto? Orba. Orba. Ma perché hai fatto il giro? Perché hai fatto il giro? Niente da fare. Niente. Tanto che cazzo è per andare a fare le scatole tutte adesso? Oddio. Ma perché? Perché non sto ferma, mamma mia? Oddio. Ah sì, perdiamo tutte le vite, dai. Le sfida. Stavo una scherano, mamma mia. Oddio. Mamma mia, mamma mia. Ma vai a cagare. Cocco di merda. va bene guarda, non commento non commento non ho voglia di commentare e ti levi leone di merda è da piangere mi viene da piangere ed ecco che facciamo game over e spengo il gioco ah si raga se faccio game over basta chino mucho Ok Non dico più nulla Perché guarda Ma vai a cagare Madonna sto drago Madonna i draghi I draghi Guardalo 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 E raga Facciamo game over Game over raga Ebbene si Sapevo se è arrivato a questo momento Madonna 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 Oddio Che culo Mi manca quella del bonus Ce ne faremo una ragione A posto raga ho finito il livello Non lo farò mai più Io La chiudo qua Credo che adesso ci dovrebbe essere l'altro mondo Spero Che non ci sia più questa maschera Orribile No anzi C'è un altro livello Mamma mia Mamma mia E poi c'è il boss Mamma mia E ho solo una vita Bene Io vi saluto Vi mando un grosso bacio Scusate per i miei scleri In questo gioco Spero Ti avrei fatto divertire Più che rilassare Perché questo gioco Non fa rilassare Anche se Senti l'SMR Io Se guardassi una roba del genere Sarei nervosissima In ogni caso Spero Vi faccio piacere Che vi porto a questo gioco Nonostante mi faccio Arrabbiare tantissimo E sia sempre A corto di vite E nulla Buonanotte ragazzi Un bacione a tutti Un bacione Un bacione Un bacione